Se riscontrate problemi riguardo all'avvio di Windows che è fallito, quindi in questo caso lo stai avviando ma fa sempre questo caricamento all'infinito e vi ritrovate così con l'errore riguardo al recupero del tuo PC, quindi ti serve poi una riparazione al computer per colpa del file boot.bcd, questo codice di errore qua. Quindi in questo caso se invece si tratta dell'installazione di Windows e non riesci a installarlo, vai direttamente su Next, quindi vai avanti e lì c'è scritto Repair Your Computer, quindi ripara il tuo computer. Una volta fatto vai su Troubleshot, il secondo il CMD, quindi il prompt dei comandi. Quindi andiamo a scrivere c in due puntini, cd Windows, cd System 32, tiriamo così nella cartella del System 32, vai a scrivere bootrec spazio slash fix mbr, operazione completata, bootrec spazio slash fix mbr, accesso negato, bootsect spazio slash nt 6 0 spazio s y s, uscirà così questa schermata, così, poi vai a scrivere bootrec spazio slash fix mbr. Andiamo a scrivere poi attribut, spazio slash 2 puntini, slash boot slash bcd, spazio trattino h trattino r trattino s, facciamo invio. Faccio, l'ho trovata, il pacchetto ne è stato trovato, disk part. Ora andrà a trovare così partizione del disco, list disk, tutti i nostri dischi installati nel nostro computer, quello è il disco da 120 giga. Selezioniamo così il disco che vogliamo selezionare, quindi io seleziono così il disco 0, select disk 0. E facendo poi, questa è la lista dei dischi, volume, la partizione è qua. Io adesso vado a selezionare il volume select spazio vol 2, quindi seleziono il volume 2. Assegno così una lettera, quindi faccio assign letter, quindi assegno così la lettera a questo volume 2. Faccio frattino v, due puntini, e assegno la lettera v a questo disco. Sempre su disk part, vai a scrivere list, volume, ecco tutta la lista dei volumi, come puoi vedere il volume 2, adesso c'ha una lettera, il v, format fs uguale, fat 32, overwrite. 100% completato. Lista volumi, ecco la lista dei volumi. E adesso faccio exit. Lascio così il disco a parte. Seleziono v, due puntini, p, c, d, put, spazio, c, due puntini, slash, windows, slash, spazio, s, v, due puntini. E finisco qua. Ho creato così il boot e faccio conto. Ovviamente i passaggi erano questi per risolvere il problema riguardo al bct, quindi per altri problemi ancora puoi semplicemente commentare sotto al video. Se non ti funziona puoi ripetere di nuovo la procedura, quindi spegni il tuo computer, accedi il tuo pc, ritorna sulla riparazione del tuo computer, e poi vai sul prompt dei comandi mettendo tutti quei comandi che ho inserito. Quindi se ti è stato utile iscriviti, lascia like per altri problemi, come ho detto, commenta sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. 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 Ciao.